Andiamo in planta, continuate a respirare, cercate di mantenere in linea, un piccolo penamento e andiamo in caccia, facciamo che adesso andiamo a terra, e ci mettiamo nella posizione della caccia, facciamo la terra, ritorno verso il basco, appoggio le mani vicino al pezzo, appuntiamo dei ritori e facciamo la posizione rettana a pezzo indire, arrivate fino a dove potete, sentite dolore, rifoggiate le ginocchio a terra.